Tutto è bene quel che finisce bene. Sono usciti lievemente feriti i quattro carabinieri che sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nel corso di un inseguimento tra Civitavecchia e Bracciano, avvenuto ieri mattina. Le auto dei militari si sono scontrate all'altezza di Santa Marinella mentre cercavano di fermare un forgone rubato a Bracciano da un cittadino italiano, poi fermato di fronte al porticciolo Riva di Traiano e arrestato. Ma per arrivare ad ammanettare il malvivente, diverse pattuglie dei carabinieri si sono rese protagoniste di un folle inseguimento sulla statale Aurelia, prima in direzione Ladispoli e poi nuovamente verso Civitavecchia. L'uomo alla guida del furgone rubato ha effettuato manovre pericolose e forzato diversi posti di blocco prima di infilarsi nell'ampio parcheggio del porto turistico dove i carabinieri hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco sugli pneumatici al fine di forarli e interrompere così la fuga del bandito. Così è stato, l'uomo avendo perso il controllo del mezzo, si è fermato ed è stato bloccato e arrestato. Per i quattro militari rimasti feriti, come detto, non sembrano esserci particolari problemi dal punto di vista fisico e quindi torneranno presto al lavoro. Ieri in città non si parlava d'altro anche perché molti cittadini di Civitavecchia e Santa Marinella hanno vissuto da vicino i momenti concitati dell'inseguimento e dell'arresto dell'uomo, con attimi di vero terrore, in particolare quando si sono sentiti gli spari da parte dei carabinieri. Sulle chat hanno iniziato a circolare i video realizzati in diversi momenti da tutte le persone che si sono trovate coinvolte nelle diverse fasi dell'inseguimento. Il più forte è certamente quello nel quale si vede l'auto dei carabinieri che insegue il furgone lanciato a tutta velocità all'interno del parcheggio del porticciolo Riva di Traiano e si sentono i colpi di pistola esplosi dai militari per interrompere la folle corsa dell'uomo alla guida.